questi sono i miei primi dormienti ne abbiamo 10 più o meno di aprile sono ritornato ai miei posti ho fatto un salto con gli amici Katia ecco che cavo i primi due è un buon segno dove sto andando c'è la neve e questo spiega perché ci sia stata poca frequentazione arrivederci